Mattina di nebbia. Il pescatore si alza dal giaciglio guardando dalla finestrella di casa lo spazio bianco e dice alla moglie oggi non vado. Con una nebbia così persino i pesci si sperdono nell'acqua. Ha affermato questo e con parole uguali o simili lo hanno detto anche gli altri pescatori sull'una e sull'altra riva perplessi per la straordinaria novità di quella nebbia inconsueta per l'epoca dell'anno in cui siamo. Solo uno che pescatore di mestiere non è benché tra i pescatori viva e lavori si affaccia alla porta di casa come per accertarsi che il suo giorno sia oggi e guardando il cielo opaco dice rivolto all'interno vado al lago. Alle sue spalle Maria di Magdala ha domandato devi proprio andare e Gesù ha risposto era ora. Non mangi? Gli occhi sono a digiuno quando si aprono il mattino. L'ha abbracciata e ha detto finalmente saprò chi sono e a quale scopo servo. Poi con incredibile sicurezza giacché la nebbia non consentiva di vedere neppure i propri piedi. È sceso per il pendio che conduceva all'acqua. È salito su una delle barche che erano ormeggiate lì e ha cominciato a remare verso il punto invisibile che si trovava in mezzo al lago. Il suono dei remi che sfioravano e picchiavano sul bordo della barca. Gli spruzzi dell'acqua che colava. riecheggiavano su tutta la superficie e costringevano a restare a occhi aperti quei pescatori cui le buone mogli avevano detto se non puoi andare a pesca approfittane e dormi. Inquieta, turbata, la gente dei dintorni guardava la nebbia impenetrabile nella direzione in cui doveva esserci il lago e inconsciamente aspettava che il rumore dei remi e dell'acqua si arrestasse all'improvviso per rientrare in casa e con chiavi, chiavistelli e catenacci sprangare tutte le porte, pur sapendo che un soffio appena potrebbe abbatterle se l'uomo che si trova laggiù è colui che immaginano e se decidesse di ispirare da questa parte. La nebbia si apre per lasciar passare Gesù, ma a sguardo arriva al massimo alla punta dei remi e alla poppa, dove quella semplice traversa funge da panca. Il resto è un muro, all'inizio opaco e grigio, poi a mano a mano che la barca si avvicina alla meta, un chiarore indefinito comincia a rendere bianca e brillante la nebbia, che vibra come se cercasse nel silenzio senza coglierlo un suono. In un cerchio di luce più ampio la barca si ferma, è il centro del lago, seduto sulla panca a poppa c'è Dio. Non è come la prima volta una nuvola, una colonna di fumo, che oggi con questo tempo avrebbero potuto perdersi e confondersi con la nebbia. È un uomo massiccio e vecchio, con una fluente barba sparsa sul petto, il capo scoperto, i capelli lunghi, il viso largo e forte, la bocca turgida che parlerà senza che le labbra sembrano muoversi. È vestito come un ricco ebreo con la tunica lunga color magenta, un mantello con le maniche azzurro bordato d'oro, ma ai piedi calza dei sandali grossolani, rustici, buoni come si dice per camminare, il che dimostra che non deve essere un tipo dalle abitudini sedentarie. Quando non sarà più qui ci domanderemo com'erano i capelli e non ricorderemo se bianchi, neri o castani. Dall'età dovrebbero essere bianchi, ma c'è gente cui la canizie viene tardi. Forse è il nostro caso. Gesù tirò i remi in barca, come chi calcoli che la conversazione sarà lunga, e disse semplicemente «Eccomi qua». Senza fretta, metodicamente, Dio si sistemò il mantello sulle ginocchia e disse «Eccoci qua». Dal tono della voce avremmo detto che aveva sorriso, ma le labbra rimasero immobili, si mossero solo i lunghi peli dei baffi e il mento, come le vibrazioni di una campana. Disse Gesù «Sono venuto per sapere chi sono e che cosa dovrò fare per rispettare nei tuoi confronti la mia parte del contratto». Disse Dio «Si tratta di due cose diverse, quindi dobbiamo procedere per gradi». «Da quale vuoi cominciare?» «Dalla prima». «Chi sono io?» domandò Gesù. «Non lo sai?» ribatte Dio. «Pensavo di saperlo. Credevo di essere figlio di mio padre». «A quale padre ti riferisci?» «Al mio, al Falegname, Giuseppe, figlio di Elio, di Giacobbe, non so bene. Quello che è morto crocifisso, non pensavo ce ne fosse un altro». «È stato un tragico errore dei Romani. Quel padre è morto innocente e senza colpa?» «Hai detto quel padre. Ciò significa che ce n'è un altro». «Ti ammiro, sei un ragazzo sveglio, intelligente». «In questo caso non è l'intelligenza che mi ha soccorso. L'ho udito dalla bocca del diavolo». «Te la fai con il diavolo?» «Non me la faccio con il diavolo, è venuto a trovarmi lui». «E che cosa hai udito dalla sua bocca?» «Che sono tuo figlio». Con passato, Dio fece un cenno affermativo con il capo e disse «sì, sei mio figlio». «Ma un uomo come può essere figlio di Dio? Se sei il figlio di Dio non sei un uomo. Io sono un uomo. Vivo, mangio, dormo, amo come un uomo. Quindi sono un uomo e da tale morirò». «Al posto tuo non ne sarei così sicuro», disse Dio.